Sala Grimita, quella della Casa di Conversazione di Lanciano, per il convegno organizzato da Professione Italia, sezione di Chieti, sulla Via Verde. Primo appuntamento importante per il network di professionisti, che si pone come interlocutore valido e costruttivo per il rilancio del territorio. Michaela Camiscia è presidente della sezione di Chieti di Professione Italia. Ecco, Professione Italia è nata da qualche mese, però avete già presentato tanti progetti. Sì, in realtà sono molto contenta, contenta del mio staff che mi supporta, contenta anche del riscontro che abbiamo avuto. Noi nasciamo il 28 ottobre 2023, il 2 dicembre 2023 ci siamo presentati ai rappresentanti istituzionali, alla cittadinanza, ci siamo presentati alla stampa, a voi. E devo dire che abbiamo registrato un numero di aderenze al di là di ogni migliore aspettativa. Chieti in effetti nasce in maniera spedita. Oggi un convegno molto importante in cui affronteremo due aspetti caldi per l'Abruzzo, anche molto discussi. Partiamo dalla nuova Via Verde, quindi questa ciclovia famosa che attraversa, posso dire, paesaggi suggestivi, anche belli, della nostra provincia. fino a parlare della direttiva Bolkenstein che purtroppo rappresenta un pregiudizio per tutti coloro, per i traboccanti, per i balneatori in genere. La Via Verde è una sfida ma anche una priorità per la regione Abruzzo. Lo ha ribadito il presidente Marco Marsiglio, intervenuto insieme a parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali. Ad aprire lavori Alfonso Ucci, vicepresidente dell'associazione, che oltre a parlare delle potenzialità della Via Verde, si è soffermato sulla direttiva Bolkenstein. La Bolkenstein, sì, purtroppo è una criticità perché, nonostante che sia stata emanata nel 2006, recepita in Italia con il decreto legge 59 del 2010, a tutt'oggi non è stata regolamentata. È vero che, come ha detto la collega Valeri della regione Abruzzo, è una direttiva armonizzante, nel senso che si pone in edulcorazione con la normativa nazionale. È vero che la regione Abruzzo ha attuato un progetto di legge per la non applicazione dell'articolo 12, quindi regime di salvaguardia. Però è anche vero che, purtroppo, il problema c'è ed esiste. Il decreto 1000 proroghe ha prorogato l'applicabilità della Bolkenstein sino al dicembre 2024, quindi da quel momento in poi lo Stato dovrà decidere cosa fare. Al momento stanno effettuando il monitoraggio e il censimento delle concessioni che ricoprono circa il 33% del territorio nazionale. Restiamo in attesa con la sollecitazione pervenuta dalla regione Abruzzo, che unica sia costituita nel giudizio presso la Cassazione a Sezioni Unite e il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, per vedere gli esiti di questo progetto di legge, che si spera sia favorevole ai balneatori e alle strutture che rivestono grande importanza per noi come i trabocchi.